se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e lascia un like il castello di fumone situato nel basso lazio a fumone in provincia di frosinone è stato per oltre 500 anni un punto di avvistamento e difesa dello stato pontificio la sua posizione strategica lo ha reso una fortezza inespugnabile con tentativi falliti di conquista da parte di importanti figure storiche come federico barbarossa ed enrico sesto di svevia solo papa gregorio nono riuscì a conquistarlo nel tredicesimo secolo mediante un accordo finanziario tra gli episodi più significativi legati al castello si ricorda la prigionia e morte di maurizio bordino noto come antipapa gregorio ottavo nel 1121 un altro evento importante fu la prigionia del papa celestino quinto nel 1295 dopo dieci mesi di prigionia il pontefice morì a fumone conferendo alla fortezza anche un significato spirituale nel corso del sedicesimo secolo il castello perse la sua importanza militare e iniziò a decadere il papa sisto quinto decise nel 1584 di conservare l'edificio come luogo di memoria storica affidandolo alla famiglia nobiliare lunghi di roma questa famiglia trasformò gradualmente il castello in una residenza che ancora oggi è di proprietà privata e abitata dagli eredi la struttura del castello include un museo con reperti archeologici e un giardino pensile realizzato nel seicento dalla famiglia lunghi questo giardino sospeso esteso su 3500 m2 è uno dei più grandi in europa ad un'altitudine sopra gli 800 metri sul livello del mare all'interno del castello sono conservati due luoghi legati a papa celestino quinto una cappella costruita in sua memoria nel diciottesimo secolo e la cella in cui fu rinchiuso per dieci mesi durante la visita al castello è possibile conoscere la storia tragica del marchesino francesco lunghi e della sua madre duchessa emilia caetani legata al suo figlio defunto e al quale fece imbalsamare il corpo il castello ha ricevuto la visita di papa paolo sesto nel 1966 che ha deposto una croce votiva in memoria di celestino quinto nel 1990 gli attuali proprietari stefano e fabio de paolis hanno aperto il castello al pubblico offrendo visite guidate alla prigione di celestino quinto al giardino pensile e al piano nobile nel castello di fumone si narra la triste storia del marchesino francesco lunghi un bambino la cui scomparsa rimane avvolta nel mistero la sua morte avvenne in circostanze misteriose tanto che non si esclude la possibilità che sia stata causata da una malattia non diagnosticabile all'epoca tuttavia il referto approssimativo del medico legale ha alimentato la tesi del fratricidio ipotizzando che le sorelle del bambino potessero essere coinvolte per motivi di interesse ciò che rende ancora più inquietante il caso è il passato di una delle sorelle la quale aveva tentato di uccidere il fidanzato in posto utilizzando pezzi di vetro macinati all'interno di un piatto di selvaggina arrosto questo scuro episodio ha sollevato sospetti sul comportamento delle sorelle lunghi e sulla loro presunta responsabilità nella scomparsa del piccolo francesco le sorelle avide dell'eredità che aspettava al fratellino decisero di agire in modo nefasto dopo la morte del marchesino francesco le sorelle iniziarono a diffondere voci sul fatto che il bambino fosse stato avvelenato da qualcuno che voleva impadronirsi della sua eredità iniziarono così ad insinuare che la madre la marchesa emilia caetani lunghi potesse essere coinvolta in questo presunto omicidio le voci infondate si diffusero rapidamente tra la popolazione locale e il castello della famiglia lunghi fu oggetto di pettegolezzi e sospetti la marchesa emilia devastata dal dolore per la perdita del figlio e dal sospetto dei suoi stessi familiari decise di chiedere che il corpo del marchesino venisse imbalsamato per preservare la sua memoria e dimostrare la sua innocenza il corpo del piccolo francesco lunghi venne quindi preparato per la conservazione utilizzando tecniche di imbalsamazione tradizionali dell'epoca il bambino venne vestito con i suoi abiti migliori il volto venne ricoperto di cera per preservarne le fattezze e venne collocato all'interno di una teca di vetro all'interno di un armadio nel castello di famiglia la madre del marchesino devastata dal dolore e incapace di accettare la tragica perdita del figlio decise di far imbalsamare il piccolo francesco per il resto della sua vita lo trattò come se fosse ancora vivo prendendosi cura di lui nel modo più attento e amorevole possibile lo vestiva lo spogliava lo lavava e gli parlava continuando a condividere con lui ogni istante della sua esistenza è ancora possibile osservare la mano destra del bambino corroso dalle lacrime che la madre versò accanto a lui per tutti quegli anni di dolore e rimpianto dopo la scomparsa del suo adorato figlioletto la marchesa caetani lunghi cade in uno stato di profonda prostrazione che la condusse sull'orlo della follia la perdita del bambino la gettò in uno stato di disperazione che non riusciva a superare e decise di non seppellirlo mai convinta che così avrebbe potuto continuare a tenerlo vicino a sé la marchesa non accettò che il figlio dovesse essere separato da lei e così prese la drastica decisione di sistemare il corpo del bambino in una vetrina appositamente allestita per lui lì accanto ai suoi giocattoli preferiti il piccolo sembrava quasi dormire nella pace eterna custodito amorevolmente dalla madre che non riusciva ad accettare la sua morte questa strana e inquietante abitudine della marchesa destò scalpore tra i suoi parenti e conoscenti che la osservavano con occhi preoccupati mentre continuava a prendersi cura del figlio defunto come se fosse ancora in vita la marchesa passava ore a parlare con il bambino immobile nella vetrina raccontando gli storie e cantando gli ninne nanne come se lui potesse ancora ascoltarla la storia della marchesa caetani longhi e del figlio ritrovato nella vetrina divenne presto un racconto popolare tra i cittadini del luogo che ancora oggi ricordano con orrore la triste fine di una madre che non riusciva ad accettare la morte del suo piccolo oggi il castello della famiglia lunghi a fumone è diventato luogo di numerosi avvistamenti di attività paranormali documentate testimonianze raccontano di una figura femminile che piange e si aggira tra le antiche mura del castello mentre altri visitatori sostengono di aver visto lo spirito di un bambino che gioca con pietre laviche alcuni visitatori affermano addirittura di aver notato lievi movimenti e cambi di espressione nel bambino imbalsamato fenomeni che gli esperti attribuiscono a fattori ambientali come umidità calore e pressione oltre che all'effetto di suggestione sui visitatori tuttavia per molti il marchesino francesco longhi resta una presenza palpabile all'interno del castello testimone silenzioso di una tragedia che continua a sconvolgere le menti e i cuori di coloro che osano avventurarsi tra le sue antiche mura negli anni successivi il corpo del marchesino francesco longhi divenne oggetto di leggende e superstizioni si raccontava che di notte il bambino si muovesse all'interno della teca e che il suo spirito tormentato vagasse per il castello in cerca di giustizia ancora oggi a oltre 200 anni dalla sua morte il corpo imbalsamato del marchesino francesco longhi è custodito gelosamente nel castello di fumone le visite al castello sono limitate e il corpo del bambino è sempre al centro di attenzioni e misteri testimoni parlano di aver visto presunte presenze di possibili fantasmi nel castello e anche quella di un piccolo bambino presubilmente era quella di francesco longhi il giovane marchese morto precocemente la storia del marchesino francesco longhi continua a suscitare curiosità e fascinazione tra coloro che si avventurano nel castello di fumone precocemente la storia del pezzolo di fumone è sempre la tua vita